Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft 8 Survival Oggi siamo qui Con una nuova texture pack Che potete vedere Si chiama Spans for Vidicraft E' una figata assurda E oggi ragazzi andremo in miniera Cioè guardate ragazzi che figata Che figata Guardate Che figata Guardate il vulcano Il vulcano Oddio ma è buggata Oggi andremo in miniera Credo che sono già pronto Perché ho i panini Si si ho tutto Quindi possiamo già andare Andiamo nella mia solita minierozza Scaviamo ancora più giù Per vedere cosa c'è Qui ciao Andando in channeling table Si è una figata No io qui non ci arrivato Mi tira le laggate Vabbè Ecco Ferro Perfetto Cominciamo bene l'episodio Mi dicono Allora Cobblestone Che poi Cobblestone stone Alla fine La cobblestone è un po' più scura Ma altrimenti nella texture Sono uguali Avevo anche installato La shader mod Però quella la ragazzi Mi lagga come un animale Andiamo verso la miniera Più scura Con questo piccone Sarò velocissimo Allora Vediamo Siamo a livello 41 Ancora Un po' di strada La dobbiamo fare Quindi io con lo gizzo Ci vediamo dopo Bella Ecco ragazzi Cominciamo a sentire L'umore di mob Siamo giù a livello 23 Di altezza Quindi Raccogliamo questo ferro Annaggia Non mi laggare Mi tira le laggate Ebbè Si deve caricare Per il mondo Giusto così Ok Devo seguire La scia Delle torce Dopo All'anser Ecretel Ok Ragazzi Sono venuto in miniera Perché Cominciano a scherzeggiare I materiali E almeno così Poi non ci devo pensare più Perché ho Tutto Questo che cos'è Oro? Si oro Siamo già A livello dell'oro Perfetto 22 Al 22 Però non si trovano I diamanti Quindi andiamo più giù Qui siamo a livello 16 E mi sa che si dovrebbe cominciare Già a vedere la redstone Io non lo so dov'è Gianni hand Ah ecco la redstone Ecco Ecco qua Ho detto che cominciava A arrivare la redstone Allora qui Qui immagino che non c'è niente Perfetto E qui non c'è più niente Però Mi sa che se scavo la terra Dovrei trovare qualche diamante Perché dove c'è terra C'è diamante Oppure c'è Vabbè Qualsiasi materiale Così dicono E io scavo Scavo come un piccolo netto Prendo che possono sempre trovare I diamanti qui Però è molto difficile Cioè no Molto difficile Se c'è lava Che dovrebbe essere Allora perfetto Non ci ho trovato niente E se scavo più giù Mi sa che trovo qualcos'altro Quindi prendo un attimo Questo ferro E me ne vado Ok Uh C'è pure questa Oh È imbazzito La W Ecco Raga Si blocca la W Infatti No 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 Che cacchio fai No 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 Cari ragazzi Eh Ho appena finito Di Di Inchantarmi tutto Ho rifatto tutto Ho fatto la bestia Lo spaccarocce La diamant Chouvel Vabbè E la diamant Dax Mi sono rifatto tutto Eh Però non voglio Non voglio più registrare Perché per quello che è successo Non voglio registrare Quindi se vi è piaciuto Mi do lasciare un bel like Commentate Iscrivetevi Bella La Grazie a tutti.